Tutto con precisione, l'attenzione a ogni minimo dettaglio e il rapporto con il partner. Nelle sue coreografie bisogna essere totalmente confidenti con il partner per poter portare a termine una coreografia che è davvero una sfida. Quando si riesce a superare una coreografia così difficile, la crescita personale e artistica Se svegliere il gruppo con il gruppo di ricerca, il gruppo di ricerca. La corragia è potente per il gruppo di ricerca. Il giorno abbiamo messo la camera in Drarèche per aver guardato una scena di Qardia, la scena di Qardia in Drarèche. Questa qui è la scena di Ponte, Questa è la città del Kharjo. La città del Mone, la città del Suntreville. Siamo arrivati al Suntreville, e andiamo a fare la città della città. se brenjal ta'aliya malu malu rani hai ma'amim intرجar fissal a 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